Ciao ragazzi e bentornati a un nuovo video questo sarà un video haul di tutti i prodotti sia di abbigliamento che di make up che ho acquistato nell'ultimo mese mese e mezzo iniziamo dall'acquisto più recente fatto ieri che è questa felpa qui una felpa maglioncino maglietta acquistata nel negozio Jennifer che è per chi è di Roma non so se si trova in altri negozi io lo trovo al centro commerciale Euroma 2 comunque c'è il sito online che si chiama Jennifer.com giusto? praticamente questa felpa è grigia c'era solo tanto così quindi grigia con questi gufettini alcuni storti alcuni dritti, neri è molto molto calda è una di quelle felpe che vestono larghe quindi se come me avete magari i fianchi questa non ve li va a sottolineare anzi vi diciamo sfinisce la figura comunque mettendo in risalto invece le zone forti tiene anche abbastanza calda e comunque non è neanche tanto spessa e io lo indosso con una canotta sotto perché ho sempre paura di avere freddo io ma in ogni caso potreste anche utilizzarla senza questa l'ho pagata 19 euro e 99 e comunque mi piace tantissimo poi sempre in tema vestiario ho acquistato un paio di stivaletti ma questi li ho acquistati a novembre inizio di novembre e sono questi stivaletti qui neri semplici con queste fibbie il tacco in legno e questo tessuto praticamente che non fa penetrare l'acqua e non si bagna nemmeno questi qua li ho acquistati in un negozio vicino a casa mia che si chiama Jessica fa anche abbigliamento oltre che a scarpe però diciamo è uno stile che per me non va è uno stile molto ragazza aperta diciamola così questi qua li ho pagati 18 euro più o meno adesso non ricordo perfettamente il prezzo però comunque sono comodissimi appunto quando piove non si infila l'acqua da nessuna parte mi piacciono tantissimo sempre da Zenis in tema scarpe pantofole più che altro ho acquistato queste pantofoline carinissime sono bellissime sono bellissime sono una taglia unica hanno tutti questi disegni così stile non lo so mi viene in mente la Norvegia quando vedo questi disegnini così con cuoricini renne questi motivi un po' strani un po' etnici molto calde sono veramente caldissime non vi faccio vedere la suola perché non è una suola in gomma è una suola come il tessuto della pantofola e praticamente prende tutto lo sozzume che c'è praticamente attira la polvere anche se uno ha appena finito di pulire li ho pagati 9,99 e sono caldissimi veramente molto molto caldi c'erano anche rossi e rosa semplici però questi qua erano veramente carinissimi veramente teneri vabbè basta poi ho acquistato altre candele Yankee Candle per colpa del mio fidanzato perché ha sentito questi odori fantastici e ho detto vabbè compriamone un paio abbiamo comprate quattro abbiamo comprato quelle di Natale allora abbiamo preso questa si chiama Merry Marshmallow che come vedete abbiamo già aperto ed è un odore delicatissimo non si sente tanto però comunque si sente molto dolce ma appunto delicato e sa di marshmallow quello che ci ha detto quello in negozio è che praticamente è uguale alla versione standard di marshmallow quindi se non trovate questa qua di Natale acquistate marshmallow normale e avete la stessa profumazione poi abbiamo acquistato Christmas Memories che è praticamente tutti i profumi di Natale ed è quella più forte e più speziata perché comunque c'è lo zenzero si sentono i biscotti quindi questa qua io direi di bruciarne un quarto che basta e avanza per tutta la casa se non vi piacciono gli odori speziati proprio non li acquistate perché non vi piacerà per niente è molto molto forte praticamente si sente da lontano dalla busta si sentiva solo questa candela poi abbiamo acquistato Christmas Cookie appunto i biscotti Natale è molto sembra dolce è molto molto buona sì sì interessante anche questa e l'ultima è Christmas Eve che per me non sa di niente però diciamo il mio fidanzato ha detto che sentiva dei profumi sarà la prossima che brucieremo e vi farò sapere qualcosa in più queste abbiamo pagato l'una 1,80 euro al negozio Yankee Candle so che su ebay esistono dei cofanetti i rivenditori che vendono 10 tart quindi magari riuscite a risparmiare un po' soprattutto se non avete un negozio Yankee Candle attaccato a casa come ce l'ho io che forse è meglio per voi magari andate un salto magari fate un salto su ebay e guardate un po' perché ci sono delle confezioni in base ai profumi quindi quelli floreali quelli fruttati magari vedete quelli che vi possono interessare di più poi in tema beauty makeup sono andata da Kiko perché partecipando al concorso quello sulla palette componibile da da tre ombretti praticamente partecipando si ha un 20% di sconto che si può utilizzare sia in o in negozio o online comunque se andate sulla pagina fan di Kiko c'è scritto tutto là e io ho preso due prodotti una è la matita questa qua quella per le sopracciglia questa qua è quella vecchia che praticamente io divoro perché mi piace tantissimo il colore è perfetto per le mie sopracciglia e questa qua è la numero 02 e ha come vedete il pettinino e all'interno della confezione vi è venduto anche il temperino poi altro prodotto acquistato è l'eyebrow designer che è praticamente un gel per le sopracciglia per fissarle e a me piace tantissimo questo è quello vecchio faccio vedere com'è ah questo qua è lo scovolino secondo me l'hanno fatto un pochino troppo grande perché porca miseria voglio vedere che ha un sopracciglio così grosso e all'interno c'è un liquido trasparente che non ha cambiato colore per niente neanche utilizzando la matita sotto quindi veramente fantastico e fissa veramente le sopracciglia non se ne vanno per i cavoli loro durante la giornata e entrambi i prodotti di essence ho finalmente trovato scusate la confezione ma l'ho distrutta non riuscivo ad aprirla quelli che servono a levare i punti neri i purifying purifying face strip che appunto devono questi qua sono quelli per il mento ma fondamentalmente vanno bene per qualsiasi zona cioè nel senso a me i punti neri escono tantissimo sul mento e sul naso proprio qua proprio sulla cubettina che poi non ce l'ho la cubettina a me piacciono tanto devo dire che sono veramente un ottimo prodotto l'unica cosa è che hanno un odore un pochino pochino forte però riescono a eliminare i punti neri più che altro quelli più in superficie quelli che stanno proprio giù giù bisogna andare da un estetista e questi qua li ho pagati 2 euro e all'interno ci sono 3 confezioni ne manca una perché l'ho usata con all'interno 2 diciamo 2 stick e a me piacciono veramente tanto li riacquisterei senza ombra di dubbio poi ultimi acquisti fatti sono andata da Bottega Verde perché sul sito c'era il 60% di sconto adesso non ricordo perché però praticamente uno sconto che si poteva utilizzare sia online o in negozio e praticamente mi sono portata avanti con gli acquisti e ho preso la crema per i capelli della linea Mam questa qua ha la polvere di gasul ed estratto di dattero ed è una crema nutriente rivitalizzante per i capelli di cui io vi parlai ma tanto tanto tempo fa a me piace tantissimo perché appunto nutre e rivitalizza i capelli e li fa sembrare veramente molto molto più sani rispetto alla come sono normalmente questi cosi che a me sono i miei sono pure sottili quindi a voi a metterci creme e cremine comunque questa qua costa 9,99€ e io col 60% di sconto l'ho pagata 3,99€ una cosa del genere e poi ho preso anche questo latte corpo delle linee per Natale con al profumo di pan di spezie sono 200ml di prodotto lo dovevo pagare 12,99€ e l'ho pagato 9,99€ di questo qua vi posso dire che a parte l'odore che è fantastico e rimane sulla pelle per almeno due giorni l'odore dalla confezione è molto forte mentre sul corpo si sente ma non così tanto però per me per quel che mi riguarda è una cosa buona si viene assorbito dalla pelle molto velocemente e ne basta veramente poco a me piace tantissimo per le fan dell'inci questo per quanto io ne sappia di inci non ve lo consiglio per niente perché vedo un po' di peg un po' di schifessuccio le varie mentre per quanto riguarda mamma dell'inci non mi sembra di vedere cose tremende però comunque qua troverete l'inci con i vari bollini e niente ragazze questo era il mio shopping dell'ultimo mese fatemi sapere se avete provato qualche prodotto di quello che vi ho fatto vedere se avete comprato qualcosa di carino di particolare e noi ci rivediamo col prossimo video un bacione ciao